Sono 90 i nuovi casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo, di età compresa tra 1 e 89 anni, risultati dai 2.206 tamponi molecolari e dai 695 test antigenici effettuati nelle ultime ore. Se si tiene conto soltanto dei primi il tasso di positività, rapporto tra test effettuati e positività riscontrate, la percentuale si attesta di pochissimo oltre la soglia del 4%, mentre si è calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno e pare al 3,1%. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 55.433 tra dimessi e guariti, più 134 rispetto a ieri. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Chieti. 569 pazienti, più 12 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 64 meno 1 rispetto a ieri, con 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.777, meno 61 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle, mentre il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2.248, di età compresa tra 63 e 92 anni. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 10.410, meno 50 rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 16.812 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 21 rispetto a ieri, 17.469 in provincia di Chieti, più 54, 17.440 in provincia di Pescara, più 17, 15.644 in provincia di Teramo, numero invariato, 543 fuori regione, più 1, e 183 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.